L'amata SOP di Canale 5 Terra Mara cambia orario, scopriamo quando inizia la puntata di oggi lunedì 5 settembre e i motivi L'amata SOP di Canale 5 Terra Mara cambia orario, scopriamo quando inizia la puntata di oggi lunedì 5 settembre e i motivi Leggi anche, Il Paradiso delle Signore 7, quando inizia? Data ufficiale prima puntata settembre 2022, anticipazioni, cast Terra Mara oggi 5 settembre, c'è la puntata? La puntata di Terra Mara di oggi, 5 settembre 2022, andrà in onda La SOP non è finita e continuerà a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 Terra Mara, a che ora inizia oggi? L'orario della puntata di oggi di Terra Mara, però, verrà posticipato alle 16.30 e non al solito orario, 14.45 Un altro domani è Terra Mara, 9 orari le SOP opera Terra Mara e un altro domani, quindi si invertiranno per potenziare il ritorno di pomeriggio 5 A partire dal 5 settembre, infatti, anche un altro domani si sposta alle 14.45 Lunedì 5 settembre oggi in tv, posava in onda su Canale 5? Al posto di Terra Mara, oggi lunedì 5 settembre, andranno in onda le puntate della SOP un altro domani Di seguito la programmazione di Canale 5 prevista per oggi, 14 e 10, una vita, 1409, i part, 1 f 14 e 45, un altro domani, 1 f 15 e 44, l'isola dei famosi 16 e 30, Terra Mara Uomini e Donne oggi, quando inizia? Data prima puntata, orario la prima puntata della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, invece, andrà in onda, ufficialmente, la prossima settimana, il 19 settembre 2022 Restate aggiornati con per scoprire in anteprima tutte le news sulla puntata di oggi Il Paradiso delle Signore e la programmazione di Rai 1 Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao!